oh ragazzi dove siete oggi? Michele come? ma che fa questo signore? corso di arte arte o latte non ho capito? arte del pa? ma signorina ma lei questo cosa lo sta rendendo male signorina questo deve andare all'estero signorina Enrico a posto? cosa ne pensi di questo papiro? Miriam rilascia un'intervista dai che sta finendo il filmato siete pronti? un saluto ciao dalla Sicilia ditelo questa andrà all'estero siete pronti? fiume freddo che c'è scritto fiume freddo? e sotto che c'è scritto? lo diciamo tutti insieme sole bravi a tutti ciao